Buongiorno a tutti e ben ritrovati alla rubrica Domanda risponde. Oggi parleremo delle news, delle ultime notizie sul contratto scuola e la legge di bilancio. Domanda numero 1. Gli arretrati per il blocco contrattuale di 4 anni saranno versati automaticamente o bisogna richiederli con una domanda presentata dai lavoratori della scuola? Non appena verrà rinnovato il contratto scuola, dunque quando sarà firmata l'accordo del CCNL 2019-2021, si spera entro il dicembre 2022, gli arretrati arriveranno automaticamente nel cedolino di gennaio o febbraio 2023. La notizia che circola di richiedere gli arretrati con apposita domanda del docente o del personale ATA è evidentemente una bufala. Si prevedono arretrati che oscillano tra i 2.000 e i 3.000 euro netti per i 4 anni di vacanza contrattuale. Domanda numero 2. Nel prossimo rinnovo del contratto collettivo nazionale scuola ci potrà essere una norma sulla mobilità territoriale, professionale, dunque passaggi di capo e di ruolo, e la delicata risoluzione dei vincoli della mobilità dei docenti? L'intenzione dell'Aran e dei sindacati è proprio di intervenire nel contratto collettivo nazionale scuola 19-21 sulla mobilità dei prossimi anni, chiedendo il perimetro dei vincoli sulla mobilità dei prossimi anni. Quindi con il CCNL scuola 2019-2021 è probabile un intervento chiarificatore sui criteri di mobilità per i docenti e il personale ATA. Terza e ultima domanda. Nella legge di bilancio 2023 ci sarà qualche risorsa per il contratto collettivo nazionale scuola 2019-2021? Oppure si penserà solamente alle risorse per il contratto 2022-2024? La legge di bilancio 2023 dovrà tenere conto di finanziare correttamente la vacanza contrattuale anche del contratto collettivo nazionale scuola 2022-2024. Ci vogliono diversi miliardi di euro per fare ciò. Sarà molto complicato quindi che il ministro Valditara possa trovare risorse aggiuntive oltre quelle attualmente disponibili per la chiusura del CCNL 19-21. Quello che è certo è sicuramente la richiesta dei sindacati per avere maggiori risorse finanziarie e quindi maggiori margini di manovra. Ma è tutto da vedere se sarà possibile. Vi terremo informati su queste notizie riguardanti il rinnovo del contratto scuola tramite i nostri canali social Facebook, YouTube, Instagram e seguiteci anche nel nostro sito www.tecnicadellascuola.it Arrivederci e alla prossima puntata. Grazie a tutti.